Come facciamo a bloccarli questi centri? Sicuramente è una situazione diversa, ma non è vero che se sei nel Mediterraneo non puoi contrastare gli sbarchi. Basta guardare i dati. La Grecia l'anno scorso ha ridotto del 75% gli sbarchi. In Spagna gli sbarchi non ci sono più dall'era Zapatero. In Italia invece, quindi la via centrale del Mediterraneo, è l'unica che negli ultimi anni ha avuto un incremento sempre maggiore di afflussi. Tanto per dare una cifra, per far capire quanto è vasto questo giro miliardario di affari, Nel 2011, anno in cui scoppia la guerra in Libia, quindi anno della massima in teoria pressione migratoria dal sud del Mediterraneo, l'Italia spendeva per il fenomeno di immigrazione e per l'accoglienza e recupero in mare 800 milioni di euro all'anno. L'anno scorso abbiamo speso 4 miliardi. Dove vanno questi soldi? L'abbiamo visto in gran parte con l'inchiesta Mafia Capitale dove vanno. Questo è un sistema che sta facendo ingrassare e lucrare cooperative, on-lus, associazioni pseudo caritatevoli, che sulla pelle di questi poveri disgraziati stanno facendo i miliardi. Inoltre, bisogna dire una cosa, oltre a questo essere disgustoso e ingiusto nei confronti di queste persone, l'altro giorno leggevo su un quotidiano nazionale, ora siamo alla messa all'asta dell'immigrato. Lei deve sapere che oggi le prefetture, per dare la gestione di queste persone al prezzo più basso, fanno le aste, fanno le aste di persone. Già questo direi che una politica che vuole essere caritatevole e vicina alla povera gente non si spiega. Ma, volevo dirle, oltre al problema di sicurezza di cui si parlava, qui c'è un problema sociale. Noi stiamo continuando a importare mano d'opera a bassissimo costo, nel momento in cui ogni anno più di 100.000 giovani italiani vanno all'estero a fare i lavori che i giovani europei non vogliono più fare. Allora, il problema è duplice. Da una parte la sicurezza, perché chi arriva in Italia non ha quasi mai titolo a essere rifugiato politico, perché solo il 5% riconosce lo status di rifugiato. E dall'altra il mercato del lavoro. Allora, un attimo, perché se no ci sono troppe cose. Mi permetto di dire una cosa. Le aste che dice lei, beh, perché si deve assegnare a una cooperativa la gestione, non è che la sceglie arbitrariamente, però comunque fa sicuramente effetto. Arrivo, Simone, faccio un'ultima domanda a Molinari, però. Perché Trump dice, benissimo, io però scelgo sette paesi, sette passaporti, e quelli non entrano, punto e basta. Dobbiamo fare così anche noi, scegliendo sette paesi. No, questo no. C'è da dire una cosa su Trump, mi permetta però, che il provvedimento che ha preso sull'Iraq Trump l'aveva preso identico Obama qualche anno fa, con una differenza. Addirittura Obama impediva l'accesso agli Stati Uniti di chi fosse transitato in Iraq, quindi anche i cittadini italiani. Però allora non ci fu questo scandalo. Questa mobilitazione, va bene. Quindi diciamo che ora c'è un'attenzione particolare, perché c'è un'attività verso Trump. Simone, Simone.